Come succede ora in Europa dopo la stazione del MES? Succede che l'Italia, come ha dimostrato in questo anno, è un protagonista nei percorsi europei e si devono ascoltare. Ma le opposizioni parlano di un Giorgetti sfiduciato? Assolutamente, il governo è coeso e il Giorgetti ha tutta la nostra fiducia, è riuscito a fare, e noi con lui una manovra economica che ora è in corso di approvazione qui al Senato, che ha ottenuto un giudizio estremamente positivo dei mercati, delle agenzie internazionali, di tutti gli osservatori, degli investitori. Il Paese va bene anche perché ha saputo realizzare in condizioni difficili due manovre economiche, quello dello scorso anno e quello di quest'anno, e affronteremo anche quelle dei prossimi anni sulla base del nuovo patto di stabilità, che ha recepito molto le nostre indicazioni. È stata una ritorsione, il no sul MES rispetto al patto di stabilità. Il Parlamento è libero e sovrano. Ma avrà la stessa fiducia in Europa, Giorgetti, dopo i risultati del MES? Guarda, quest'anno ha dimostrato che l'Italia in Europa, e non soltanto in Europa, è protagonista, più che mai.